Carciofi e l'onza di maiale a cena! Per prima cosa mettete l'olio e l'aglio in una padella e fate cuocere i carciofi tagliati. Fate cuocere a fiamma vivante per circa 7 minuti. Sale e pepe. Togliete l'aglio. A metà cottura aggiungete mezza tazzina di acqua. Una volta cotti li mettete in una ciotola. E ora farcite la carne con i carciofi. Arrotolate e chiudete con uno stecchino. Nella stessa padella aggiungete un filo d'olio, un ciuffo di rosmarino e fate insaporire l'olio senza farlo bruciare. E poi lo togliete e adagiate gli involtini. Li fate rosolare su tutti i lati a fiamma media. Passato circa 5 minuti, sfumate con il vino bianco. Una volta evaporato il vino, aggiungete acqua calda. Coprite e fate cuocere. Involtini di lozza ai carciofi pronti!